In occasione della giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, che quest'anno coincide con il decennale della morte di Vito Scafidi, il Comune di Torino gli ha intitolato il Giardino di Piazza Chiaves. Alla cerimonia hanno partecipato i genitori di Vito Scafidi, le autorità locali, alcune associazioni e molti studenti, tra gli altri quelli del primo liceo artistico che hanno decorato con il tema della sicurezza scolastica le panchine del giardino. Grazie a quello che fu uno shock, credo per tutti e per tutte, grazie appunto al lavoro di Cinzia, ci si è messi tutti in gioco per rimettere al centro quello che è un diritto, cioè il diritto alla sicurezza nei luoghi delle scuole, nei luoghi di lavoro. Tutte le istituzioni devono lavorare insieme, come dicevo prima, uno dei paradossi è che abbiamo risorse che non riusciamo ogni tanto a spendere per la complessità delle procedure e quindi oltre a immettere risorse dovremmo anche tutti cercare di semplificare le procedure per poter intervenire in modo più veloce e urgente. Siamo qua insieme agli studenti, anch'io in veste di insegnanti ho portato con me due mie classi, perché è importante che i ragazzi conoscano questa storia, non sapevano nulla di Vito, è stata anche l'occasione per poter far comprendere a loro quanto importante sia la sicurezza nelle scuole, anche loro devono contribuire con piccoli gesti quotidiani, per questo è fondamentale proprio la presenza dei giovani oggi. Sul tema della sicurezza nelle scuole la città metropolitana sta mettendo in campo numerosi interventi, grazie a risorse proprie utilizzabili al di fuori del patto di stabilità. Ha investito 7 milioni e mezzo di euro nel 2017 e quasi 13 milioni nel 2018 per interventi di messa in sicurezza, adeguamento normativo e manutenzione straordinaria negli edifici scolastici di propria competenza. Altri interventi saranno effettuati nel 2019 e negli anni seguenti, anche grazie ad un bando regionale con risorse erogate dal MIUR.